50 posti letto al dormitorio del Camploi di Vicolo Campofiore, 50 presso la struttura della Caritas il Samaritano in via dell'Artigianato, un'altra trentina nel dormitorio di fronte alla fiera in fase di allestimento e ancora alcuni appartamenti di seconda accoglienza dislocati in varie parti della città. Verona è preparata all'emergenza a fretto, parola dell'assessore ai servizi sociali del comune Scaligero. Verona è davvero organizzata per dare asilo a chi non ha una dimora fissa, grazie agli sforzi di una rete di servizi messa in campo da diverse realtà cittadine. Il comune di Verona e i servizi sociali da anni hanno sostenuto questo impegno attraverso non solo la disponibilità che i servizi del comune di Verona offrono, ma anche attraverso una rete di servizi che ci viene offerta da tutte le realtà che sono presenti sul territorio. Abbiamo un ufficio che è dedicato proprio a questo e quindi una mappatura precisa dei posti letto e delle disponibilità. Ogni giorno ci arrivano le possibilità che ci sono nei vari luoghi. Verona è una città generosa, lo dimostra anche offrendo la disponibilità a questi ricoveri. Se dovesse arrivare il freddo più pungente dell'inverno, speriamo no, il comune sta già pensando a delle misure ulteriori. Sì, speriamo non succeda, ma nel caso dovesse essere così, attiveremo l'apertura, come è successo l'anno scorso, che è durata 20 giorni questa apertura, all'interno dello spazio che c'è al giardino d'estate, con l'apertura del tendone.